In due anni. Però lui dice, sentite, lui dice, se io avessi imbrogliato all'undicesimo round del Title Tuesday, perché questo è il torneo in questione di cui si parla, anche per solo due o tre mosse a partita avrei potuto raddoppiare i miei guadagni. Perché si riferisce proprio a... se avessi imbrogliato, avevo potuto raddoppiare i miei guadagni. Ecco, che bel esempio di... 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 congiuntivo condizionale. Se Parigi avessi il mare, sarebbe un piccolo... piccolo Bari. La piccola Bari.